Devo andarci con calma. Quindi evitiamo scorciatoie strane. E smettiamoci semplicemente a saccagnare gente. Non dimenticavo se siete duri a morire. Questi sono pericoloserrimi. E' anche facile fargli cadere giù. Ok. Seguiamo. Oh! Il solito culo delle grandi occasioni. Ecco cosa abbiamo tirato su. Oh! Cazzo è Street Fighter! Oh! Oppure un altro. Qua cosa abbiamo? L'uomo di Pernomanzia. Mi sa che non abbiamo nessuno che ce la può leggere. Non t'azzardare. Ecco. E ci saluti definitivamente. Ecco le picchiette. Ecco le picchiette. Ok. Due in uno ma tanto ristronano. Qua non c'è niente che devo temere? Sicuri? No? Ok. Qua forse si però. No. 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 Poi? Qualc'altro? E no che non muoio di sicuro con te. Sì. E invece sì. Ci vorrà una calma che non avete idea proprio. Ma proprio non ne avete idea. Prendiamo la scorciata di prima ma con un po' più di calma. Cosa? Tanto io sono trovato un nemico alle spalle da nulla. Meglio così. Pure in uno. Ok. Bisogna fare con molta calma. attenzione qui. Oppure fare un gesto sconsiderato. Che è quello che in mente adesso. Tipo. scendere qua giù. Scrivere un esercito di Pantegane. Scrivere con le ignobile palla. Sono un idiota. E arrivare al falo. Mi è toccato a scrivere tre quarti di gioco ma. Per avere falo alla vita questo ed altro. E adesso andiamo con più calma verso un punto un po' complicato. Lo faccio quello che devo fare. Faccio meno di tornare indietro. No. Sono incastrato. Porca miseria. No 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 no. Ok. Eccola lì. La vedo. La aspetto. Non sono stupido. Sottata. Dobbiamo salire qua su. è stata una stupidaggine immensa ho saltato un bel pezzo ma sto rischiando di schiattare uguale di qua che c'era? ah ecco c'è una cosa che ci servirà più tardi molto più tardi è un drop ecco una braccia che di cui non disponevamo salve pure anche tu ok oi la meglio stare calmi eh so te so te ok allora voi siete una rottura di palle intermedie in quanto tale dovete farmi penare eh mo basta ok vediamo il sistemare prima te allora no questi sono due malattissimi stronzi però con la stamina giusta muoiono sempre e ci hanno lasciato un casino di roba una grotta forse è qui che dovevamo andare oh ciao stranzetto ciao vieni qua no 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 bastardo ancora non capisco dove si tuffa ogni volta vabbè ce l'ha data lo stesso ok manca un tanto così qua invece pillola gialla per l'incontinenza qui c'è qualcosa che ci serve è a voglia che vuole fare un sforzo e me la darei magistralmente a gambe perché è quello che bisogna fare in questi casi cazzo ho sbagliato che non cade oh ecco sta cadendo il problema è che sto per morire anche io qualcuno si ha salvato qualcun altro no posso farlo ok il problema è risolto ok a questo punto bravo e il perché della braccia molti lo sanno già dovremmo aspettare qualche segno perché da soli è un po' complicata mi avventurerò qui sotto ma anche perché devo riuscire a fare una cosa che mi potrebbe risolvere tantissimi problemi perfetto l'ha fatta il computer al posto mio ma devo anche fuggire sta seguendo no sono stato invaso porca miseria no non ha funzionato come al solito cazzarola questo mi apre questo mi apre meglio andarmene questo mi segue porca miseria meglio mi segue relativamente anche se è andato allora vorrà dire che farò una cosa sia stupida che intelligente prendere il drop scappare come il peggiore dei comandi ed arrivare a questo falò che è sostanzialmente uno dei falò più minchioni di tutto il gioco ok no ok un paio di è andato giù e ci va anche l'altro intanto sembra che gli scheletri stiano andando contro quella specie di roba tranne quelli che sono qua perché era troppo bello contare che non aiuto non aiuto faccio la faccio faccio la faccio proprio di voi non aiuto non aiuto un altro